Qui leggiamo delle lettere private, non pensate per una divulgazione pubblica, d'amore e giovanili, dove il poeta ha addirittura 17 anni in alcuni casi. Quindi soffre un aspetto del futuro Vate inedita, diversa, molto divertente. Si intravede il genio del poeta che sarà, però c'è anche una grande ingenuità, c'è una grande freschezza, c'è una grande verità di sentimento. Insomma è lui innamorato. La lettera è una, come dire, recitazione doppia. Perché è scritto su un foglio e perché non possiamo viverla come qualcosa che ci viene in mente in quel momento. La recitazione in genere è la finzione di un sentimento, di una parola che ci arriva al labbro in quel momento. Invece quando si legge non lo si può fare. Perché la parola sulla carta, la parola scritta per la carta, è una parola pensata, ragionata. E quindi ha bisogno di una dizione che sia un po' meno partecipata che non quella della recitazione vera.